Dottoressa Nadeo, cos'è il fondo di investimento? Come si delinea? Il fondo di investimento è un veicolo, uno strumento che non è nient'altro che una scatola che serve per far incontrare gli investitori istituzionali che mettono il loro denaro e le aziende che mettono i mini bond, che sono degli strumenti finanziari a tutti gli effetti con un rendimento, con una cedola e che servono appunto per finanziare le loro aziende ma anche per investire i soldi degli investitori istituzionali. E che ruolo rivessono comunque all'interno del mondo fare impresa? Beh, direi è uno strumento nuovo del quale sulla carta ci sono delle grandissime potenzialità che serve per finanziare le aziende, come nel mondo delle quotate da tantissimi anni le aziende emettono delle obbligazioni per finanziarsi, adesso c'è finalmente la possibilità anche per le aziende non quotate di media dimensione di poter emettere dei bond e quindi delle obbligazioni che servono per la crescita, che servono per andare all'estero, per aumentare la propria produttività e che quindi sono uno strumento utilissimo per fare impresa. Grazie mille.